Torna al cinema Marco Bellocchio con un'opera monumentale in 300 minuti, il suo Esterno Notte racconta nuovamente il rapimento di Aldo Moro, dico nuovamente perché il regista aveva già raccontato questa storia con il suo Buongiorno Notte uscito qualche anno fa. Lo fa però in maniera completamente diversa, mettendo il focus sui singoli personaggi di questa vicenda. Abbiamo quindi Fabrizio Gifuni che interpreta Aldo Moro, Fausto Russo Alesi che interpreta Francesco Cossigo, un personaggio storico poco analizzato al cinema e in televisione, e infine Tony Servillo nelle parti di Papa Paolo VI. Questa prima parte, la seconda arriverà a giugno, riesce ad avere una regia assolutamente mai banale per una storia già raccontata ma che riesce comunque a tenerti attaccato allo schermo e a farti respirare il clima frenetico e politico di quel momento. Altri grandi interpreti come ad esempio Margherita Bui prendono parte a questo nuovo gioco di Marco Bellocchio che vi consiglio assolutamente di andare a vedere in sala perché riesce ad tenervi attaccato allo schermo sempre.